Saper pregare per quelli che ci vogliono male farà migliorare i nemici e renderà noi ancora più figli del padre. Lo ha detto questa mattina Papa Francesco introducendo l'Omelia nella Messa del mattino in casa Santa Marta commentando il Vangelo di Matteo. Gesù non è venuto al mondo per cancellare la legge come lo accusavano i dottori della legge, ha ricordato il Papa, ma per portarla alla sua pienezza perché prima di lui non c'era l'amore verso Dio, verso il prossimo e verso se stessi. Infondere l'amore nelle azioni della vita non è un lavoro solo per il compimento della legge, ha proseguito il Pontefice, ma è un lavoro di guarigione del cuore. E che il Signore ci dia la grazia soltanto a questa, pregare per i nemici, pregare per quelli che ci vogliono male, che non ci vogliono bene, pregare per quelli che ci fanno dal male, che ci perseguitano. e ognuno di noi sa il nome e il cognome. Prego per questo, per questo, per questo, per questo. Io vi assicuro che questa preghiera farà due cose. A lui lo farà migliorare perché la preghiera è potente e a noi ci farà più figli dal Padre. Grazie. 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 Grazie.